Mi assaggio ai sindaci sia per la richiesta al Ministro Speranza e al Presidente Bardi di procedere con la valutazione degli indici di contagio comune per comune al fine di limitare le restrizioni, sia per l'istanza di concertare una massiva campagna di vaccinazione con una calendarizzazione puntuale e attendibile. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale polese, che spiega «La repentina ricaduta della nostra regione da gialla a rossa rappresenta un colpo durissimo per la popolazione, per l'economia e per il sistema sociale scolastico che, ad un anno dalle prime misure di contenimento del virus, sono già molto provati. La scelta di sottoporre tutta la regione a restrizioni così severe appare eccessivamente penalizzante». È evidente che si tratta, prosegue Polese, di una questione estremamente delicata in cui prevale, a livello ministeriale e regionale, il sentimento di salvaguardia preventiva. Allo stesso tempo, però, non si può non prestare la massima attenzione all'appello dei sindaci, che definiscono le nuove misure restrittive generalizzate e penalizzanti per interi territori e svariati comprensori.